Il disegno come fondamentale elemento della più conosciuta produzione pittorica di Osvaldo Licini. Lorenzelli Arte a Milano presenta Di segni di sogno, una mostra che come dice lo stesso gallerista Matteo Lorenzelli si inserisce nella scelta consapevole di una sofisticata inattualità. Per me andare controcorrente è ormai diventato una sorta di modus vivendi e ancora una volta se ci fosse mai bisogno sto presentando insieme a Roberto Borghi e a Giorgio Magnone una mostra di Licini, artista apprezzato più all'estero, conosciuto e in Italia assolutamente dimenticato. Una dimenticanza che guardando i lavori di Licini appare ingiustificata sia per la semplice forza visionaria del tratto sia per il percorso che documenta evoluzioni consapevole e costanti dell'artista marchigiano, il cocuratore della mostra Roberto Borghi. La sequenza continua di disegni testimonia come tutte le evoluzioni della pittura di Licini, passaggi alle varie fasi dalla fase astrata, alla malassunta, agli angeli ribelli per poi tornare a degli angeli con una memoria così della fase astrata geometrica ecco queste fasi sono state elaborate precedentemente nel disegno e poi le intuizioni elaborate nel disegno si sono come condensate nella pittura. Pittura che in mostra è comunque presente ma in posizione successiva e ridotta rispetto al disegno con dei lavori di piccola e media dimensione che comunque testimoniano della forza espressiva di Licini e Lorenzelli rivendica le proprie scelte all'insegna della ricerca e non solo delle opportunità di mercato. Oggi come oggi sono sempre quei 4-5 nomi che girano e trovo che ci sia una noia mortale in giro. Le gallerie fanno solo, almeno non tutte le gallerie ma molte gallerie fanno solo una linea di mercato non c'è più nessuna forma di esplorazione o di riproponimento di artisti dimenticati e sconosciuti che meriterebbero molto di più di quello che succede oggi. Fino al 30 gennaio 2016 sarà dunque possibile confrontarsi con l'opera, per così dire sotterranea, di Osvaldo Licini.